Fa discutere il mancato inserimento della quattro corsie Termoli-San Vittore nel decreto mille proroghe. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle messi sotto accusa dal governo regionale si difendono e a loro volta attaccano. La capogruppo del PD in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, è andata a Roma sia all'ANAS che al Ministero delle Infrastrutture per capire se qualcuno aveva ufficialmente posto la questione ai soggetti competenti. Ovviamente, riferisce l'esponente dell'opposizione, nessuno sapeva niente dell'emendamento presentato e nessuno ha mai visto né Toma né Niro su questo punto specifico e per il provvedimento in questione. La Fanelli quindi ricorda, ora si stracciano le vesti e accusano gli altri per la loro incapacità istituzionale. Sapevano benissimo che l'emendamento sarebbe stato respinto se davvero tenevano al potenziamento della strada di collegamento più importante per il Molise, potevano raccogliere la nostra proposta di impegnare i soldi del CIS preferendo la superstrada ai tratturi. Attaccano anche i 5 Stelle con Antonio Federico che ricorda innanzitutto come la Lega aveva presentato l'emendamento al mille proroghe volendo togliere 900 milioni di euro dal fondo per il reddito di cittadinanza ed investirlo per realizzare la strada. Per il parlamentare si tratta di demagogia di bassa Lega considerando che un'infrastruttura non può finire in un decreto che prevede appunto proroghe. Si prova a confondere e creare contrapposizioni tra i cittadini prosegue Federico proponendo interventi che anche dal punto di vista procedurale si sa benissimo non potrebbero mai essere approvati tant'è che i presidenti delle commissioni riunite di bilancio e affari costituzionali insieme agli uffici tecnici hanno ritenuto l'emendamento inammissibile ovvero non potrà nemmeno essere messo in votazione. Di questi giochini in Parlamento ne vedo ogni giorno ma sorprende che in Molise, sono ancora le parole di Federico, l'assessore Niro dica che questa era una opportunità concreta. Federico ricorda infine che la questione della Termoli San Vittore è già sui tavoli istituzionali. Gli investimenti infrastrutturali si programmano e si concertano con il governo, con i ministeri e con l'ANAS sottolinea non con estemporanei interventi legislativi pensati solo per fare clamore. Infatti conclude il parlamentare già abbiamo portato questo intervento all'attenzione del ministero delle infrastrutture e ai vari tavoli di aggiornamento del contratto di programma con l'ANAS.